niente palo solo rete e abbassa per iniziare la costruzione ci si è stampata sul palo ancora Milan che adesso in scarico di Tolomello di nuovo Sacco avanza velo interessante per favorire la corsa di Sacco in mezzo il momento difficile per la formazione locale reduce da un girone di ritorno protezione di Italla Antonina Sacco questa volta si fa arpionare via il pallone poi ancora Sacco però la scippa e portando quasi il pallone sulla linea di porta Sacco in tre Sacco può ad alzare la testa Sacco lancio profondo per l'inserimento di Kerr bisogna provare invece il gioco di squadra poi però indietro su Capone pallone di ritorno per Sacco fermato da Alagna Pippa proprio per la corsa ai playoff questo pallone molto bene su Luongo può partire Sacco si fa vedere anche Amore Sacco aspetta la discesa di Sacco a scendere Oddi traccia per Sacco Sacco protegge il pallone con il corpo vinta dell'Ascoli poi ancora Sacco calciato da